ciao a tutti e ciao a tutte ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora scusate il sottofondo della lavatrice e allora oggi voglio fare questa ricettina che è molto veloce e anche sfiziosa e sicuramente molto utile per quando si hanno degli ospiti a cena l'altro giorno ero al supermercato e ho trovato queste coni non è cono però diciamo delle coppette di cialde ecco allora io ho realizzato la mia crema al mascarpone con l'aggiunta del liquore marsala e ovviamente in questo video poi vi lascerò nei commenti il link dove ho preparato la crema che se non ricordo male è proprio quando ho farcito il pandoro vi evito i passaggi in questo video così potete andare tranquillamente a rivederla in quell'altro e niente sicuramente è un dolcetto sfizioso e niente dai ci vediamo dopo e vediamo un pochino il procedimento ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.